Ciao ragazzi, io sono Redd e benvenuti alla Univet Ballistic Week. Cos'è l'Univet Ballistic Week? Beh, questa settimana parleremo esclusivamente di occhiali. Occhiali non come quelli che ho indosso io, ma occhiali balistici, come avete intuito. Quindi di sistemi di protezione per i nostri occhi e di come fare ad andare a giocare e stare sicuri quando lo facciamo. In particolare oggi parliamo di una cosa che a me è molto cara, in quanto, come potete vedere, sono una talpa, ho gli occhiali e devo giocare, gioco da anni con gli occhiali e ho sempre fatto fatica a trovare un sistema per vedere bene mentre andavo a giocare. Ecco che viene in nostro aiuto, in particolare in mio aiuto, questa, la maschera 6X3. Questa maschera è fenomenale, ha un sacco di caratteristiche molto molto particolari che andremo a vedere subito dopo la sigla. Partiamo quindi dalla maschera tattica modello 6X3, questa bella bimba, e la features primaria e più importante di questo affare è la seguente. Ovvero è una di quelle maschere che voi potete mettere con gli occhiali sotto. Ce ne sono tante di maschere vendute per il softair, magari della Hatfield, magari di marche che costano meno. Questa vi assicuro però che è l'unica che ha veramente senso utilizzare. Questi occhiali che io ho in questo momento hanno una montatura molto particolare, che come potete vedere ha questo angolo molto quadrato. E normalmente, difficilmente, riesce a stare all'interno di maschere da softair, quindi di protettive per la lente principale che avete indosso, senza che si vadano a incastrare o senza che vadano a toccare gli angoli, perché normalmente questo genere di maschere tende ad essere più schiacciata in questa parte qui del viso in modo tale da attutire gli urti e tutte quelle boiate lì. Con questa maschera invece il problema non c'è. E soprattutto se avete mai provato a utilizzare questo genere di maschere con gli occhiali, avrete sicuramente notato che si appannano a cannone. Questa no. Tu prenotalo! Questa non si appanna a cannone per un semplice motivo. Usa e sfrutta questa plastica che circonda l'intera maschera per adattarsi perfettamente al viso. Fa sostanzialmente l'effetto della maschera da sub. Questa piccola feature vi permette di isolare completamente il naso e il resto e concentrarvi solamente sugli occhi. E a cosa vi serve? Vi chiederete voi. Beh, molto semplicemente quando andate a respirare, quindi buttare fuori l'anidride carbonica, questa non va su e si attacca alle lenti e ve la panna. Ma rimane perfettamente. Senza parlare del fatto che tutti noi che giochiamo a software abbiamo ben chiaro che il problema principale di utilizzare maschera e occhiale è l'appannamento. Infatti molti di noi non coprano la bocca, che è pericoloso, o tendono a non coprirsi la bocca perché poi dopo andiamo ad appannare la lente e non vediamo niente. Quindi questa maschera non solo ha questo sistema geniale che impedisce l'anidride carbonica e il calore che state mettendo da naso e bocca di andare in alto, ma soprattutto, come tutti i prodotti Univet, ha un trattamento interno della lente che impedisce l'appannamento. Davvero, perché anche io uso questi occhiali, ho il trattamento anti-appannamento e anche su quelle montature che utilizzo per andare a giocare software, ho il trattamento anti-appannamento. Ma non fa una beata ceppa di niente. Quindi se indossate occhiali normali e avete problemi di appannamento, la maschera 6X3 è il modello che io vi consiglio. Per provarvi che questi occhiali sono veramente anti-appannamento, adesso mi andrò a mettere la mascherina, appunto, ecco fatto, poi chiudiamo proprio. Adesso io andrò a respirare velocemente, faccio anche un po' di corsetta sul posto, così vediamo se effettivamente sono anti-appannamento. Comunque oggi abbiamo spento i condizionatori perché li stanno riparando là fuori, quindi c'è anche una condizione bella caldina qui dentro, che sono abbastanza sicuro sia perfetta. Che bella questa cosa. Come potete vedere la lente è perfettamente normale, anche se sotto sto sudando, ma non si è appannata in nessun modo. Questo perché, come vi ho già detto, anche se io vado a bloccare appunto la bocca, quindi l'anidride carbonica non riesce a uscire e va su, la lente è completamente bloccata da questa specie di maschera da sub. Quindi sono occhiali veramente ottimi se avete spesso problemi di appannamento. Se foste obbligati a un certo punto della vostra vita a dire io non riesco, ho gli occhiali troppo grossi, quindi non ci stanno dentro quella maschera là e voglio spendere una cifra un pochino più bassa, potete scegliere questi stupendi occhiali. Che ricordano vagamente quelli che vi mettevate in laboratorio per evitare che le sostanze chimiche vi finissero negli occhi e diventaste Daredevil praticamente. Ok. E soprattutto, cosa molto figa, sono fatte apposta, come vi ho fatto vedere prima, per essere messe sopra le astine del vostro occhiale. Quindi non è che dovete trovare il modo di incastrarle in maniera strana. Voi lo appoggiate, come vedete si vanno ad appoggiare perfettamente nella parte qui, nel mio caso io ho la testa lunga, quindi si appoggiano qua sopra, ma sono fatte proprio per appoggiarsi sull'astina dell'occhiale lì dietro. Quindi questa è un'altra variante che potete prendere in considerazione. Non fatelo, sto scherzando ovviamente. Come la maschera hanno un trattamento antigraffio e anti appannamento, quindi trovate le stesse caratteristiche sulla maschera. La maschera è un pochino fatta meglio, vi isola veramente al 100%, ma quella è la soluzione economica. Spero che il video vi sia piaciuto. Se siete interessati a saperne un pochino di più, trovate entrambi i prodotti linkati in descrizione. E come al solito vi ricordo di andare a controllare i nostri Instagram, pubblichiamo una quantità incredibile di contenuto. Chi di voi mi segue già sa che pubblico i commenti che mi fanno più ridere o che sono più imbecilli, purtroppo, sull'Instagram sia mio che del Monopoli, quindi veniteci a seguire. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Vieni con me se vuoi vivere.